La seconda corsa da Gnana è il premio Andaluso, una condizionata per 5-6 anni sulla distanza del miglio, in Salchi ci sono gli allievi, non corre Dream Key, 150 metri circa la chiusura delle ali. De Recchido nettamente il più sollecito nei confronti di De Lavdipa che rientra a Diana del Circeo, che rimane a largo, primi 200 metri in 13,8. De Lavdipa sposta a destra, c'è un agganciamento nelle retrovie, fortunatamente senza conseguenze, ma diversi concorrenti rimangono out, tra questi vedo Dominio B lontanissimo. Nel frattempo De Lavdipa ha assunto l'iniziativa nei confronti di De Recchido con ai fianchi Duelgar, poi Carzdi ed altri. Sono out il 2, il 7, l'11 ed il 12. Primi 600 metri in 45,3 ha ridotto il ritmo dei Lavdipa, ne approfitta Duelgar per incalzarlo. Si arriva così agli 800 in 1,1. I due seguiti da De Recchido, Carzdi ed altri e Diana del Circeo. Prova a farsi notare ad avanzare dalle retrovie Demone Dasti, chilometro ultimato in 1,16 e mezzo. Duelgar mette la testa davanti a De Lavdipa che però sul passo lo rientra. Acquattato nella loro scia De Recchido, tre quarti di miglio in 1,31 scarsi. Demone Dasti per Severa in terza ruota e prova ad agganciare i primi, però lo vediamo a tabellone. Retta d'arrivo, De Lavdipa in vantaggio su De Recchido e Duelgar. Facile De Lavdipa su Dere Recchido, mentre per il terzo resiste Duelgar. Quarto posto per Diana del Circeo. E questo è l'arrivo probabile ed ufficioso, bel primo piano di De Lavdipa che è sfilata a condurre su De Recchido ed ha chiuso nettamente nei confronti dello stesso a media di 1,15 e 3. Training di Gennaro Riccio, Gennaro Riccio anche alla proprietà e la guida sicuramente precisa, lucida di Ciro Paragliola. Grazie. 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 Grazie.